e allora a tutti ragazzi benvenuti nel mio nuovo video nel vostro recogli abbiamo il final fantasy otto che no vabbè giochiamo non ce ne va allora tutti i su bui Cioè, diiii, questi sono più, dicono, ah, sono spaventati, cosa succede? Cioè, non hanno mai visto un Gardner di Balaam volare? Cioè, bello. Ricordiamo che nello scorso episodio ho salvato i Gardner dai attacco misuristico. Quindi, sono contento. Ma che bello, guarda che bel Gardner che vola. Si ritornano dentro. Si ritornano. Sirito toto toto no, Sirito, Sirito, Sirito no, tutti dentro toto toto. Il preside mi vuole? Ma per cosa? Per cosa mi vuole il preside? Ah, quindi se non facciamo qualcosa andiamo addosso alla città di Balaam? Cioè, esema il suolo tutta Balaam, la città? E' un problema. Almeno funziona. No, è un animale, è più il mare. Sì, ma adesso cosa succederà? il gardener avvicherà nelle acque del mare comunque dove entriamo a finire non so se devo entriamo a finire eh sì bisogna pensare a tante cose ovviamente è vero mi sono dimenticato di selfie, gel, equistri, chissà se sono ancora vivi dopo l'esplosione della base missilistica saranno morti boh e visitiamo questo gardener andiamo non c'è un sogno però veramente il gardener che navigga nel mare non c'è un sogno non c'è un sogno sembra che non è successo niente ma la giornata è tranquilla come non fosse successo niente non c'è un sogno tutto è che fanno le stesse cose non c'è un sogno ma non c'è un sogno ma non c'è nulla un po' di noia Prima di vedere se prende. Ma chissà, non ma cosa si prende. Eh sì, dobbiamo dire che è finito. In certe, in certe volte non so cosa dire veramente, io gioco così, però non so cosa dire. Cioè, certe volte so cosa dire e altre no. Comunque qua siamo spelti al mare, cioè senza una meta. Cioè, stiamo proprio navigando così, iniziamo a meta. Non sappiamo neanche dove ci stiamo andando. Adesso andiamo dove c'è il concerto. Abbiamo fatto il festival. Scusate se non dico niente, però veramente non so cosa dire. Il gioco, boh, porto i gameplay, boh, chi lo vuole vedere lo veda. Io lo faccio solo per voi. Mi piace, non ho, non importa. are lo va a devre una chissare l'elles, non ho, non ho. Buona musica per sei. Scusate se Non ho detto niente Non ho detto una parola Però veramente non sapevo cosa dire Veramente non sapevo cosa dire Forse nel prossimo episodio Potrò dire qualcosa Parlare Qualcun argomento Perché io in pallo Pallo Non ho più argomenti Da proporre Troppo così Va bene Ragazzi se vi è piaciuto questo episodio Lasciate un like Il link di descrizione I miei social Iscrivetevi al mio canale Se lo avete ancora fatto E ci vediamo Iscrivetevi al mio canale Grazie a tutti